Oggi è lunedì, 2 maggio, gara dei Pulcini, con la classica divisa nero-azzurra è la Virtus Castelfentano e con la divisa giallo-verde è l'ortona calcio. Con la palla Francesco che ha realizzato poc'anzi la prima rete della gara. Prendi la posizione Emanuele Francesco! Abbassati Francesco, sei troppo alto, abbassati! Emanuele abbassati! Il mister del gruppo dei Pulcini. Renato Tucci, nella dubbice veste di presidente e responsabile tecnico della scuola calcio. Qua ha divuato la sua seconda rete. Nel numero 3, nero-azzurro della Virtus Castelfentano. Al momento 2-0, ma il risultato non conta. Basta che i ragazzi si divertino, socializzando fra di loro, divertendosi. Il risultato è relativo, lo scopo è che si socializzano fra di loro e si divertono i ragazzi. Ecco Federico incontrato, gli è scappato l'avversario. Invece a quest'altro lato c'è un altro gruppo di ragazzi in allenamento con la palla, agli ordini di mister Gabriele di Felice. Fermiamoci bene, fermiamoci bene, così, e si respira, gambe divaricate, si finisce l'esercizio, e si respira. Stanno facendo degli esercizi fisici, possesso palla, infatti ogni ragazzo ha il suo pallone. Corpo dritto. Buongiorno mister. Ciao zio Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Parto, movimento, questo è il movimento, io parto per fare l'esercizio, quello è l'obiettivo. Ecco riprendiamo la ripresa della partitella di questa metà del campo. Ecco prende la palla Francesco, resiste, resiste all'attacco del difensore, passa un bel passaggio. sempre il pallone Francesco, ecco si riporta. Fermiamo la palla. per il rumpo. Grazie a tutti.